Anticipazioni Beautiful Anticipazioni Beautiful, puntate americane, un'amara scoperta . Beautiful, anticipazioni americane, bro clash a Bill. Beautiful continua a far registrare buoni ascolti ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che, nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti, i protagonisti assoluti sono Bill e suo fan. . Dopo aver scoperto che è il padre il mandante dell'incendio che ha distrutto la Spectra Fashions, Liam gli ha consigliato di prendersi un periodo di vacanza se non vuole finire in carcere. Liam assume, quindi, il comando della Spencer Publications. . 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